il cross verso il centro per Mucci, pitch l'assist, non ha di rigore per Perrotta, Perrotta tira go, 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 Simone, 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 Simone te voglia bene Simone tre, tre a uno per la Roma e terzo gol di Simone Perrotta in campionato, 3-1 per la Roma, Simone Perrotta era dato vicinissimo al gol due minuti fa, ma segna questo all'undicesimo minuto, terzo gol per la Roma, gol di Simone Perrotta, terzo gol nel campionato per lui. Grazie a tutti.